Col contagocce e se non addirittura nulla, le preghiere perché piova non bastano, dicono gli arenaioli di Margherita di Savoia. La particolarità è nella natura sabbiosa dei terreni che coltivano tra il mare e le saline più grandi d'Europa. Serve acqua, il consorzio di bonifica non la eroga come dovrebbe, spiegano, non bastano i pozzi artesiani. Qui non si può avviare con i pozzi artesiani perché noi non possiamo andare profondi, non abbiamo oltre i due metri, due metri e mezzo, tre metri massimo, abbiamo acqua salata, quindi se scendiamo oltre quelle profondità noi prenderemo solo acqua salata, inutile per le produzioni. Facciamo dei piccoli pozzi che restano sopra i tre metri, ma questi pozzi ci garantiscono un quantitativo di acqua non sufficiente per poter portare avanti delle produzioni. Chiedono interventi gli arenaioli, soluzioni, prima che sia troppo tardi? È una situazione questa che purtroppo si sta verificando sempre più spesso, sono già tre volte negli ultimi dieci anni. Ed è una situazione molto pericolosa per chi fa imprese agricole e vuole fare produzioni agricole, soprattutto quando si inizia a seminare tra agosto e settembre. Quali sono le vostre richieste? Quello che chiediamo al Consorzio è una migliore programmazione, una migliore organizzazione interna e una migliore programmazione per noi. Seconda cosa, visto quello che sta succedendo proprio da un punto di vista del clima, quello che chiediamo è un lavoro sinergico tra Consorzio, amministrazioni comunali, provinciali e regionali affinché si possano trovare delle soluzioni definitive a questo problema di stop di erogazione dell'acqua in periodi critici per le nostre seminate.